ok ragazzi visto che mi hanno detto di rifarlo lo rifacciamo io l'ho già finito in tutte le modalità anche manicomio quindi lo sto proponendo qui sul page nuova partita in modalità manicomio vi mostrerò tutto quello che c'è da fare nel gioco ragazzi ok inizia la partita allora ragazzi come sempre potete seguirmi qua su twitch se volete o trovate sotto il link del mio canale questo video verrà poi trasportato sul canale youtube per chi che lo veda gentilmente se vuole può lasciare un pollice all in super sostenere il canale io lo ringrazio ora via con una buona visione è un buon divertimento dal tuo amato marito questa è una gente segreta la moglie ora devo tornare al lavoro sappi che ti amo e canna di manchi molto ti mando un mare di baci ciao amore stanno lontano stanno lontano chissà se quest'anno le altre lo presentano faranno annuncio di residenti volotto visto che già si sa che sono in lavorazione tutto bene si va tutto bene però mia non è morta lei è viva è tornata l'hanno trovata ma come su serio io non lo so ma è tornata non so come fatto ma è tornata forse è uno scherzo vorrei che la raggiunga ma lei dov'è dalve dalve luisiana dalve luisiana lo so ma se invece fosse davvero lei voglio scoprire qualcosa in più facciamo il cuore che quest'anno ci sono titoloni enzo allora ripigliamoci un po' la mano ma non ci dovrebbero essere problemi i mosquitos eppure risentivano sempre bello per me piace questa versione di qua delle altre questa potrei pure evitare di guardarla perché non è un documento ma con file è solo una rivista uniciti a noi è sempre bella l'amorità a manicomio sempre impegnativa ora è un po' la mia Grazie. 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 Basterebbe un aggiornamento Basterebbe secondo me, vero? Oh, per riattivare Il tempo che esce il 2 Almeno ti dai lì in fallono Cominciamo Sto parlando col mio amico qua In parti ragazzi Non è che parlo da solo Con chi parli? Con il mio amico Non lo sentite ma c'è il mio amico Sì, sì, ho capito Sì, ma tu lo sai meglio di me Che se lo riattivano e fanno accesso Quell'aggiornamento Può ritornare in vita Uff, si ributta la folla I mostri, i costi tagliati Io sai come si riprendeza il Bloodborne Subito subito A quanto hai detto che è abbandonato? Tre anni Clancy, filma questo Ottimo inserto Quindi Questi contadino ti scompargono? I Baker non dai contadino Jack e Margaret Baker Gente tranquilla, non arretrata Girano brutte gocce sul figlio Lucas La pecora nera Ah, merda Sapevo di dovermi mettere le altre Oh, merda Sono vaccinato Comunque È un gran bello sfondo Andre Che dici? Andre? 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 Eh, il Clancy, hai visto Andre? Clancy Noi siamo Clancy Che moriremo insieme a lui Andre Alla fine i produttori vanno e vengono Un buon cameraman come te Allora siamo dei buon cameraman Prima ci voleva licenziare Allora siamo fratelli Cos'è stato? Ho sentito? Andre? Dove cazzo? Andre? Dove sei? C'è da qua riesce? Vedete la catena? C'è, oh, incredibile Che diavolo È un cazzo di scherzo Facciamo così Troviamo Andre E poi ce ne andiamo Fa un culo lo scio Ma comunque Mi a fare la catena? Mi a fare la catena? Ha! Chi Note Ho! Che, ci vuoi Mi a fare la catena? E poi ce ? che cosa vedi? che cos'è? e andro è morto e noi moriremo tra pochi istanti penso a palate moriremo penso o schiacciate povero clancy clancy ha fatto una brutta fine andiamo a cercare la prima monetina ce ne sono 33 ne mancano 32 le fotoni non servono a niente però mi ricordo uguale non 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 andiamo Ethan forza e coraggio Ethan e Ethan si è rotto tutto damnazione eh ma che vuoi si adotta la scala ma è colpa mia su di ti devi chiedere ma chi te lo fa fare beh appunto beh insomma la pressione a mano ok no tra poco tra poco vale sulla mano tra poco ok poi dipende se mi acchiappa mi sembra anche un piede ok qua c'è povero Andrea poveraccio mi stava simpatico mi chiedo se l'altro è morto perché non si capisce se il tizio no come cavolo si chiama che non so il suo nome sia morto caccavolo mi sfugge il nome di quello allora qua c'è la lista che bisogna poi girare e leggere uno e due così poi voi cliccate il triangolo andate sulle note ecco le 4 documenti e ce le avete tutte e due queste si fa una doppia lettura ragazzi mi raccomando mia faccio è mia è roba mia adottiamo la tronchessa la tronchessa è una forza come quella che ho io identica mia mia per fortuna sei viva sono io sono Ida Ida? Ida stai bene? tu non dovresti essere qui ma che vuoi dire? mi hai contattato tu no non sono stata io o forse qualcuno ti ha visto entrare? lui ti ha visto lui? ma c'è qualcun altro? che diavolo succede? sta arrivando papà dobbiamo andarcene papà dobbiamo andarcene adesso dove mi porti? in un posto sicuro vuoi dire cosa sta succedendo? e ti ho creduto a morta per tre anni tre anni? sei sicura di quello che dici? che posto è mai questo? che ti hanno fatto? non adesso dobbiamo trovare una via d'uscita forse da questa parte forse forse mia noi dobbiamo parlare il messaggio che hai mandato? credimi quella non ero io ma l'hai fatto? non sono stata io ok d'accordo ma dimmi che sta succedendo ti sto dicendo tutto quello che so aggiungo dobbiamo andare dentro mia sai dove stiamo andando? qui la famiglia mi passava da mangiare qui la famiglia mi passava da mangiare qui la famiglia mi passava da mangiare mi ricordo la stanza c'è un'altra porta ne sono sicura e va linda vecchia è sparita è sparita è sparita saremo la famiglia ora che tu sei qui sono sicura che ci sia un'altra porta va bene ciao Lorenzo buona cena ciao via non c'è niente qua c'è la mappa via e purtroppo dovremmo scippare tutta ora che rimorrete al manicomio ci uccide quasi quel miracolo non ci uccide ma ci fadisce in maniera grave eccola qua eccola che arriva guarda che i denti bianchi che buona mano che buona mano la coltello cioè voglia via 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 siamo quasi morti siamo quasi mezzo morti c'è spavolato sono stata cattiva cattivissima c'è rimasta cattiva ok ci dobbiamo curare se no schiattiamo visto che siamo in manicomio ecco era una perfetto ora passiamoci sopra che come l'esorcista non dovevi venire Eitan spaccato la faccia va a f***** ah è p***** vaffa c**o vaffa c**o arriva a f*****o arriva a f*****o p*****o let's throw let's throw eita eh vabbè pazienza in amicizia eh telefono arrivo chi sei e che cazzo succede mi chiamo Giorgio forse puoi uscire dall'attico forse ok aspetta macchiappo l'ascia ecco l'ascia non è mia fedele ascia accetta anzi è passata la nostra moglie è passata la nostra moglie per la nostra moglie è passata la nostra moglie le proprime non è la nostra moglie non è è passata la nostra moglie e è passata la nostra moglie questo non fa male cazzo però lei se la fa con la motosega non è giusto guardate credo guardate qua c'è un piccolo trucco la vi faccio vedere scompariranno le macchie di sangue ora useremo questo piccolo trucco alzati 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 basta fare così mettesi l'arma ecco fatto siamo guariti finì questo trucco oh guarda una mano fresca di giornata c'è un monkey ok perfetto perfetto no questo mi dà un fastidio la nostra roba ecco qua vedo un po' che mi dà un fastidio se devo fare le schivate meglio non ci sia niente qua non mi interessa romperti ok qua c'è l'energia perfetto perfetto e ora ce la dobbiamo giocare con calma siamo in manicomio via 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 glieli devo piazzare tutto in testa glieli devo piazzare alla massima concentrazione la nostra moglie che cacciata io non nascondo niente guarda dov'è, guarda dov'è guarda dov'è wow ciao bimà i'm not likely that via 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 ver via 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 aiuto a 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 altra volta a 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 vittoria sfolgorante vai modalità manicomio ce l'abbiamo fatta eh sì dai dammi sto cazzotto dai dove stai dai dammi sto cazzotto boom vai un 45 in faccia lascia che prendo le almi a colpi infinite tammazzo un miliardo di volte tammazzo poi sono io a darti la caccia e a ucciderti uccidere 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 Questo sogno è chiaro, è l'ora della patria. E voi, chi siete? Dov'è mia? Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Questo, dall'azione, io non dirò. Spostati, qualche rito. Il ragazzo va a fare. Deve mangiare la sua cellula. Il ragazzo va a fare. Non mangia, gente, non mangia! Chiudi la cazzo di bata, mangia lui! È un bellone! È un figlio di bottana! È incredibile, no, figlio di bottana! Non mangia, non mangia! Cos'è cos'è? Maledizione! E' ancora quel poliziotto! Scherzo! Magliari! Tanto queste non mi servono per me di sbarazzo, poi ho trovato un documento, qua c'è un'altra file da leggere, restano 4 o 5 documenti salvati, questi non sono documenti ma vabbè uguali. Questa è il poliziotto brucio. Ecco che arriva qua, qui nooo! Grazie! 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 Senza correre! Piano piano, con calma. Oh è finita ragazzi sì sì hai trovato le fave ciao Dani l'ho già cenato io e adesso gli faccio il culo a papino adesso gli facciamo il culo a papà allora abbiamo la Herb l'Harbert i segreti dell'autodifesa oggetti e munizioni limitate poi abbiamo scarpe comode l'essenza dell'autodifesa sega circolare poi abbiamo raggi gli occhi all'RGX prego e e e e e e e adesso per adesso mi metto eh dove cavolo è? munizione no munizione limitata a posto me lo posso andare ma ok e qui lo possiamo andare perfetto e 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 nascosti non mi interessa quasi di brucio facciamo pazzino ecco lo sceriffo vice sceriffo vice sceriffo vice sceriffo fesso e e e e e ci sono dei falsi in questa casa che vogliono uccidermi va bene ma mi permetta di dirglielo neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto dice davvero come ho detto indaghiamo su persone scomparse e non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla cosa vuole sapere iniziamo a ragionare ok incontriamoci nel garage continueremo lì aspetti mi serve la sua arma ha davvero perso le rotelle per strada senta agente vice sceriffo ok va bene vice sceriffo mi vuole condannare vuole salvare un innocente coltellino del caso ecco lo prenda non posso darle a faccio presto vado al garage adesso è buono è buono il coltello fa una strada col coltello fa una strada col coltello e dobbiamo andarcene immediatamente prima mi spieghi che fa qui da solo nel forgeland io lei invece è il mio locale perchè non mi racconta tutto eh mi risponda non crederà alle me provi ehi ehi si fermi aspettiamo presto d'accordo eh fessimo sceriffo non nemmeno non vado non 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 Ma il culo appena la cagna che ti appartiene Scatti, non lo scatti Scatti, non lo scatti Oh, che avveniamo a fiamme Il mandello Adesso ce la capiamo Il morto Non c'è la manza Lì non lo apro Perché ci sono le chiavi della macchina Quindi lo spreco per il mandello Massima attenzione Muori in pace E qua c'è la monetina E fino adesso abbiamo preso tre monetine Anzi, correzione Abbiamo preso tre monetine E abbiamo letto Cinque file Ora distruggeremo anche tutte le bamboline Bambolina al gioco Allora Qua c'è la numero uno La numero uno Eccola là Distrutta Bambolina 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 numero due Eccola lì Distrutta Bambolina numero tre Distrutta Non mi interessa Monetina E già abbiamo quattro monetina Eccomi Quattro monetina E' la mia Mi dispiace ma è Beh, lui E' morto Forse potresti anche cavartela Eh? Cosa? Cavarla? Vorrei che facessi una cosa Ma non posso spiegarti Potrebbe servirti una sorta di chiave Ma cerca di uscire di me Ok Io mi farò viva Ok Quattro monetina E' già posso pigliarmi la chiave Questa scorpione E ne ce la pigliamo Occorrono solo tre monetine E' la una Ci sono due E' su tre Mia Eccola qua Tutta la Ciao papino Come stai? Ok Muori in pace papino Ok Muori in pace eh Mi raccomando Stai una mezzanetta lì Qua c'è un altro file E stiamo a quota 6 Accomiamo questo E andiamo Ciao papino Ritorno tra un poco Tu rilassati Fai finto morto Tanto ti ammazzerò Tante di quelle volte Che neanche te lo sogni Ok Da questa parte Ecco qua bingo Allora Andiamo Ora esce papuzzo E' uscito papino Vediamo E' uscito papino Papapino Muori in pace Aspetta Aspetta Muori in me Ok Sei morto male Sei morto Sei morto Molto Molto Ok Andiamo Che papalorme Allora Mettiamo Una Qua Perfetto Mmm Ok Posso aprire già questa Entrare però Non mi piace fare le cose a metà Allora La pressa Chiappiamo Ok Energy Energy Drink Questo lo leviamo Giustissimo Giustissimo Qua c'è il quadro Da leggere Ecco fatto Montagne Airclade Allora C'è la foto Poi la guardiamo Questo Lo bruciamo Non mi interessa Ciao Evelyn Ti ammazzo dopo Questo non mi interessa Il nostro mare non passa ancora Allora Siamo a quota 1 2 3 4 5 6 Quota 7 Eccolo qua 7 Bambolina Monetina Poi 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 Videocassetta Oh papi no Muori in pace papi Si si muori muori E' questa Allora qua Poi c'è la lettera Eccolo qua Perfetto Perfetto Mentre papi Isola Qua l'ho letta Ok Perfetto Apriamo la porta qua Perfetto Il fucile lo apriamo dopo Altro file da leggere Munizioni lo bruciamo Perfetto 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 mi riesco proprio a casa, proprio per ieri, questo è un dono non so, 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 non Grazie. Grazie. Ti darò infarto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Ti offriamo ospitalità. Ti offriamo i nostri cuori. E tu, invece, cosa fai? Ce la finiamo? 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 Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! Questo posto è l'incarnazione del suo nono, ma tu sei troppo stupida per capirlo! No, 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 no! Non provare a scaricare la tua bella feta di colpa! Un sacco! Un sacco! Un sacco! sorpresa e 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 guarda guarda la lezione ci siamo quasi dai ce l'abbiamo fatta dai che ti hanno fatto? che ti hanno fatto? cazzo è ora di mostrare le palle dita e ah 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 cazzo mi ha dato una volta sto on fan vabbè non importa la riporta 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 forse la riporta 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 la riporta